L'epidemia di coronavirus bussa ancora una volta alle porte di un luogo di cura e d'assistenza di anziani e malati. A farne le spese sono gli ospiti dell'ex istituto ortofrenico dell'Opera Donuva di Biceglie. Su 107 pazienti sottoposti a tampone, in 33 sono risultati positivi al Covid-19. Nello stesso reparto, la scorsa settimana, era già stata riscontrata la positività di 4 degenti e 9 operatori. Il totale delle persone contagiate nel polo sanitario Donuva sale quindi a 46. La ASL, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, sta intervenendo per organizzare all'interno della struttura l'isolamento dei pazienti e risultati positivi. A Biceglie i casi complessivi di coronavirus sono ora 56. L'impennata di contagi a Canuse e Minervino si spiega invece con la situazione dei centri per anziani San Giuseppe e Villa Bilanzuoli, con oltre 30 casi di coronavirus a testa, suddivisi tra pazienti, la gran parte e personale di assistenza. Ad Andrea le persone contagiate dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono circa 60, escludendo i casi di guarigione e i decessi sono 46, ancora i pazienti positivi. A Trani la morte del giudice Corrado Di Corrado fa salire a 4 i decessi di persone colpite dal Covid-19, mentre i contagi complessivi diventano 15 dopo il ricovero in terapia intensiva al Policlinico di Bari di un uomo di 71 anni. A Barletta, dove la regione segnala più di 20 casi positivi al coronavirus, è rientrato l'allarme nel reparto di neurologia dell'ospedale di Miccoli di Barletta, dove negli scorsi giorni era transitato un paziente risultato infetto dal virus. I tamponi eseguiti su personale e degenti hanno dato esito negativo. L'ultimo bollettino epidemiologico della regione riporta 243 casi totali nella provincia Bat. Nelle piccole realtà esclusa a Minervino non ci sono state variazioni significative, anche se la stessa regione nella sua mappa dei contagi segnala un incremento di casi a Spinazzola. Il sindaco Patruno attende riscontri ufficiali dalla Asle e dalla Prefettura.